Allora, la Salernitana Vicenza si è conclusa 1 a 1 allo Stato di Orecchi di Salerno. Io che cosa dovrei dire adesso? Allora, vi dico una cosa. La Salernitana non sa sfruttare il culo, perché è così. La Salernitana non sa sfruttare il culo, ok? Partiamo da questo presupposto. Perché tu hai la ciotta di prenderti un rigore inesistente perché è un rigore inesistente e di sbagliarlo pure in quel modo. Non solo. Hai anche la ciotta di segnare all'ottantaduesimo. E che cosa fai? Vai a prenderti un gol. Io, raga, la Salernitana non potrà mai andare da nessuna parte per questa cosa. Cioè, ma noi stiamo scherzando, raga. La Salernitana ha sbagliato un calcio di rigore e ha avuto la ciotta di segnare all'ottantaduesimo e poi subire un gol clamoroso. Io non ho parole, sinceramente. Perché io che cosa dovrei andarvi a raccontare? La Salernitana ha giocato una chiavica e il Vicenza ha fatto la partita e l'ha pareggiata. Ma che... Cioè, io che dovrei andarvi a dirvi? Dovrei dire questo? Allora il video posso anche concluderlo qui. Cioè, perché sinceramente parlando, io ora mi incazzo. Mi incazzo perché la Salernitana è una squadra che non sa sfruttare nemmeno il culo. Perché è così. Scusate il viso sfogo, raga. Ma è così. La Salernitana non sa sfruttare nemmeno il culo. Perché... Cioè, me l'ho detto anche. Ha la ciotta di sbagliare un calcio... Cioè, ha la ciotta di prendersi in rigore all'esistenza e di sbagliarlo. Hai la ciotta di segnare all'ottantaduesimo e poi prendere un gol. In quel modo. Dopo che quell'altro grandissimo... L'altro Zambrotta, la Zambrotta... Casa sola senza casa... Sbaglia il pallone, lo regala al Vicenza, lo dà Giacomelli e Giacomelli segna. Cioè, per dirvi... Per dirvi... Pure Belez lì ha sbagliato nel gol di Giacomelli. Poteva fare meglio Belez lì. Mi posso raccontare questo? Non è che vi posso raccontare altro. Raga, quindi Salernitana a Vicenza finisce 1-1 grazie ai gol all'ottantaduesimo di Ramzi Aia. E se non erro, all'ottantatresimo di Giacomelli. Quindi per dirvi... Noi abbiamo preso pure il gol dopo un minuto. Non è che dici l'hai preso al novantesimo, l'hai preso dopo un minuto. Cioè, per dirti la Salernitana qual è? Che cos'è la Salernitana? Sinceramente non ho parole. Anche perché dici... Non è che dici che la Salernitana ha fatto la partita. La Salernitana non ha fatto la partita perché... Chi dice che la Salernitana ha già fatto la partita non sta bene. Perché chi dice che la Salernitana ha già fatto la partita oggi non sta bene. Veramente non sta bene. Quindi vi dico... La Salernitana non ha assolutamente giocato a pallone. Non ha giocato a calcio la Salernitana perché quello non è giocare a calcio. Tu hai sbagliato i cambi, Castori? Perché oggi me la prendo anche con questo coglione. Perché me la dovrei prendere anche all'altra volta con Castori che è un cretino. Perché Castori è un cretino. Ok? E c'è ancora chi lo difende. Castori ha sbagliato i cambi. Ha messo Durmisi che è vero, ha azzeccato un cross. Ma mi direte... Eh, non è vero, Durmisi avrà azzeccato un cross. Ma è un calciatore scarso. 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 Hai levato sì che stava facendo una bella partita e ancora... E ancora... Non hai la testa di mettere Cicerelli che ti risolve le cazzo di partite. L'hai messa al posto di Capezzi? E hai visto pure l'altra volta che Cicerelli al posto di Capezzi non rende. Perché non rende. Cioè che cosa andrete? Vi dovrei dire questo. E vi dico questo. Perché solo questo si può dire. Il Vicenza... Non è che è stato su Vicenza. Madonna che Vicenza... Ha già... Ha giocato. Perché comunque è venuto... È venuto a Salerno. E comunque ha fatto la partita. Non è che... È stata a fare la bella statuina. Comunque ha fatto la partita il Vicenza. Non è che è andato lì a vedersi la Salernitana. Quindi... Tu hai anche... Contro uno dei tecnici migliori come lo è Di Carlo. Perché Di Carlo è un grandissimo tecnico. Mimmo Di Carlo. E tu che cosa fai? Mettiamo Durmisi che tanto non gioca da dieci mesi. Poi chi ha messo? Mettiamo Gondo. Gondo che... Vabbè è quello che ti fa 30 gol a stagione. Gondo. E quindi mettiamo anche lui. E poi... E poi... Mettiamo... Mettiamo anche Christopherson. Che con tutto il rispetto per Christopherson. È un calciatore, raga. Svincolato. Che un altro poi non gioca da un anno. Raga. Questo video si può anche concludere qui. Cioè non mi posso manco di lasciare un bel pollicione insieme. Ma chi cacchio lo lascia da fare? Cioè sinceramente parlando... Cioè ti passa anche la voglia di fare video. Vabbè raga. Via Romani da Salerno, eh. E forza Salernitana. Si fa per Dio.